Ciao, oggi vi parlo di un titolo di piazzamento tessere che vi chiederà di pianificare la vostra strategia non solo su un piano, bensì in tre dimensioni, però di questo Pairamido, gioco di Iwan Kwon per 2-4 giocatori, una durata di circa 45 minuti a partita e dedito da Pendragon Game Studio. Io sono Teo e queste sono Recensioni Minute. Ciascun giocatore inizia sempre con un set di sei indicatori gioiello e tre carte di vestimento fronte e retro. Durante il proprio turno un giocatore selezionerà una tra le tre tessere presenti nella cava da aggiungere al proprio tablò. La tessera potrà ovviamente essere ruotata, non importano le adiacenze dei colori, ma la tessera dovrà essere adiacente almeno per un riquadro alle tessere già piazzate. Decido ad esempio di metterla in questo punto. Come seconda cosa, se possibile, bisognerà aggiungere un segnalino gioiello. In questo caso il segnalino giallo è già presente sul piano di gioco quindi non potrò aggiungerlo ma dovrò aggiungere quello verde in questa posizione. Ora c'è l'opzione facoltativa di rivestire la tessera. Se voglio posso spendere una delle mie carte rivestimento fronte e retro per coprire uno dei due riquadri della tessera. In questo caso decido di non farlo. In ogni caso il turno termina obbligatoriamente mettendo una nuova tessera fra le due che possono coprire lo spazio vuoto nella cava, ad esempio questa tessera. Si continua a giocare così fino a quando ciascun giocatore non ha completato il proprio spazio 5x4 o 4x5. È il momento di calcolare il punteggio. Per ciascuno dei simboli gioiello si conteggia quanti simboli sono presenti sulle tessere che compongono la zona. Nel caso dell'azzurro quindi saranno 3 punti, per il blu 1 punto solo, per il giallo 1, 2, 3, 4, 5, 6 punti. Questi due non si conteggiano perché non sono adiacenti. Per il verde 1, 2, 3, 4, 5 punti e per il rosso 1 e 2 punti. Il marrone non è sul piano di gioco quindi non sarà conteggiato. Inoltre c'è il bonus di Mino, ovvero sia lo spazio conteggiato con il minor valore, viene conteggiato un'altra volta. In questo caso il blu da un punto ci aggiunge un punto al totale. Si procede quindi con il secondo livello. Si gioca esattamente come prima, ma adesso le tessere dovranno essere messe sul secondo piano della piramide lasciando un corridoio di un quadratino tutto intorno. Come prima, se possibile, siamo obbligati a piazzare un nostro simbolo gioiello. Completato quindi il secondo livello, si procede al calcolo del punteggio esattamente come prima, ma stavolta si guarderanno entrambi i piani. Il blu quindi in questo caso fa 1, 2, 3, 4 punti, il marrone 0 punti, il verde 1, 2, 3 punti, il rosso 1, 2, 3, 4 punti e il giallo 1, 2, 3, 4, 5, 6 punti. In questo caso quindi il bonus di Mino vale purtroppo 0 punti. Stessa cosa quindi per il terzo livello e per il quarto livello. Si sommano pertanto tutti i punteggi in questo blocchettino e neanche da dire che il totale più alto è il vincitore. Come avete visto giocare a piramide non è particolarmente difficile, non ci sono neanche dei veri e propri vincoli di piazzamento, basta rimanere all'interno del rettangolo 4x5, è tutto molto tranquillo. Approfitto per segnalarvi che nel caso in uno dei rettangoli vi rimangano dei buchi al termine del vostro 4x5, allora sarete costretti a giocare le vostre tessere di ricopertura. E nel caso non abbiate tessere di ricopertura siete eliminati dal gioco. Vi posso dire che nelle partite sperimentate non è mai successa questa eventualità. Questo non è capitato perché il deterrente vi elimina dalla partita, ma semplicemente perché il vostro piazzare le tessere avrà sempre un senso, che deve essere però pianificato non solo sul livello in corso, ma anche guardando su quelli superiori. Il primo livello, tanto per iniziare, è anche paradossalmente quello meno interessante, perché avete tanto spazio, farete delle belle zone molto colorate, molto grosse, molto adiacenti, è anche facile che riusciate a piazzare tutti e sei i vostri segnalini e quindi portare a casa un bel po' di punti su questo primo livello. Chiaramente però le cose si complicano quando cominciate ad andare già solo al secondo livello. Vi faccio ad esempio notare che tutte le tessere che avete messo al centro vengono coperte, quindi se la vostra area centrale era ad esempio una bella zona tutta verde, nel livello sopra tutto quel verde non si vedrà. Quello che rimane visibile è solamente il bordino esterno del lato sotto. Questo significa che dovete decidere bene su due strade. La prima è fare una base molto remunerativa in termini di punti, fare un primo round molto alto in modo tale che anche il bonus di Mino sia molto consistente per cercare di vivere un po' di rendita nei round successivi. Oppure fare magari qualcosa di un po' più sottotono ma prendere delle tessere che rimangano bene sul bordo in modo tale che nei round successivi possiate fare nuovamente lo scoring di quelle stesse tessere. Cosa sto dicendo? Prendiamo ad esempio questa tessera, vedete che ha i due simbolini in questo punto. Messa con il lato esterno, anche se ci saranno altre tessere a coprirla per salire con la vostra piramide, i simbolini saranno sempre visibili e quindi piazzando il vostro segnalino gioiello qua sopra potrete continuare a fare il punto di queste due maschere. Se quindi avete fatto un bel bordino pieno di simboli potrete fare quello scoring tutti i vari livelli superiori. La stessa tessera però piazzata in un altro modo in modo che le tessere superiori la coprono o addirittura annullino i suoi segnalini non varrà più punti. Quindi è vero che continuate a vedere tanto marrone ma di fatto i punti sono diventati zero. Altra cosa che forse non si vince guardando le regole ma giocando proprio la prima partita è che man mano metterete sempre meno segnalini gioiello. Attenzione ad esempio che al quarto livello piazzerete una sola tessera sulla vostra piramide pertanto un solo segnalino gioiello sarà piazzato in questo caso o il blu o il giallo e quindi uno solo dei colori della vostra piramide farà punti nel quarto livello. Per quanto riguarda l'interazione vi segnalo che in quattro giocatori ce n'è un po' blanda al centro del tavolo semplicemente dovrete avere l'accortezza di non mettere la nuova tessera a disposizione del giocatore successivo se davvero può interessargli tanto e gli può fare tanti punti. Mentre se siete in due giocatori potreste anche cominciare a pensare che magari piazzate una tessera interessante per il giocatore dall'altra parte del tavolo in modo che lui la prenda e voi stiate proteggendo quella che interessa invece a voi. Per quanto riguarda i materiali invece vi segnalo che tutte le tessere, i segnalini gioiello come li vedete eccetera fanno tutti parte della scatola base di piramido mentre questi playmat che sono molto ben illustrati, molto grossi ma anche non scivolano, rimangono ben piatti sul tavolo sono degli add-on che dovrete comprare in maniera separata. Con questo quindi vi invito sicuramente a fare una partita a questo piramido, può accomodare al tavolo davvero qualsiasi tipo di giocatore e mi viene da dire che anche chi è proprio la prima esperienza di gioco può comunque provare a fare la sua partita chiaramente non riuscirà ad avere una visione strategica, giocherà solo in maniera tattica su quel livello ma piano piano potrà fare un salto in più, già la seconda partita avrà le sue belle soddisfazioni. Con questo quindi vi saluto, con un ciao e alla prossima! Allora posso dirvi che normalmente non sono così fan di questi add-on ma allo stesso tempo questi playmat, vedete come sono fatti fronte a retto, sono ben solidi vedete che non sono deformabili e rimangono proprio piatti in più sono abbastanza ampi da contenere bene le vostre tessere e non le fanno scivolare quindi riuscite a piazzarle bene senza che si muovano sul tavolo quindi comunque sono di buona fattura. Detto questo, fatemi sapere se questo gioco vi ha convinto, se lo conoscevate già o no scrivetemi pure qua i commenti non dimenticate di iscrivervi al mio canale YouTube anzi schiacciate subito qua, iscriviti e accendete la campanella e in descrizione trovate tutti i miei canali social per rimanere aggiornati su tutto ricordate che Instagram e Telegram fanno vedere anche cose che non passano qua da YouTube e avete anche tre metodi per sostenere il canale in maniera attiva senza avere nessun costo aggiuntivo per voi Ciao ne!